Good morning Torino! Il Panini Tour è arrivato nella città della magia e noi siamo pronti per scambiare una bella mole di figurine! Quasi finito! Forza Toro! Forza Juve! Forza Juve! E oltre alla possibilità di scambiare e completare le proprie collezioni si possono fare anche nuove amicizie! Ma scusa ma questo è il paladino della Panini? Ma no, è Ferdinand di Savai, a Duca di Genova! Allora ci vediamo a Genova! Ciao!